Il Lavoratore del Turismo è un progetto che nasce a cura di Pedro Medina da una conversazione con due studiosi veneziani, Filippo Maria Paladini, storico, e Giovanni Semi, sociologo. Quando abbiamo pensato di realizzare un progetto dedicato all'impatto del turismo di massa su Venezia, in dialogo con questi studiosi abbiamo valutato che forse la prospettiva più interessante da tenere presente è quella di chi l'urto turistico in città lo regge, lo riceve e sono proprio coloro che lavorano quotidianamente a contatto con i turisti. Gli studi sul turismo di massa Venezia datano molto lontano, ce ne sono molti e la città oltre a essere satura dell'impatto turistico forse lo è anche degli studi sull'interpretazione del flusso turistico. Quindi ci sembrava che andare a parlare direttamente con coloro che tutti i giorni fronteggiano questa situazione fosse un modo semplice, umile e attento a rispettare il residuale genio sgloci della città.